Arriva a conclusione la prima annualità del percorso triennale per il conseguimento della qualifica professionale di operatore edile rivolto a giovani in età di obbligo di istruzione. Il corso che vede la partecipazione di 13 ragazzi di età fino a 25 anni è interamente finanziato dalla regione Abruzzo ed è stato realizzato dall'organismo di formazione accreditato Eventi Italia in collaborazione tra l'altro con Lance l'associazione nazionale costruttore edili di Teramo. E le imprese del Lance stanno già assumendo le persone che si stanno formando? Sì esatto, come anticipato anche l'anno scorso abbiamo fatto una conferenza stampa per presentare questo corso, adesso siamo all'inizio della seconda annualità. Nella seconda annualità verranno sottoscritti dei contratti di apprendistato con delle imprese edili della provincia di Teramo che aderiscono al Lance. I contratti di apprendistato hanno la durata di 24 mesi e al termine di questi 24 mesi i ragazzi potranno continuare con il contratto, addirittura essere assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quante assunzioni prevedete? Diciamo che i ragazzi del corso sono 13, quindi noi speriamo che tutti i ragazzi comunque riescono a rimanere nel mondo del lavoro e quindi essere assunte dalle aziende. Questa è una notizia straordinaria, il fatto che i ragazzi riescono ad assolvere l'obbligo scolastico, riescono ad avere una qualifica ed entrare nel mondo del lavoro perché normalmente con la formazione non succede anche poi l'inserimento nel mondo del lavoro. Noi oggi vogliamo anche presentare invece l'avvio di un nuovo percorso triennale, sempre per la qualifica di operatore di ILE. L'avvio c'è stato il primo novembre ma sono ancora aperte le iscrizioni per i prossimi due mesi, sempre rivolti ai ragazzi di età inferiore 25 anni.